Vincita record alla tabaccheria di Piazzale Cadorna in città, il bottino piuttosto succulento, ben un milione di euro per cinque numeri secchi giocati sabato scorso. Million Day il gioco estratto ogni giorno alle 19 ed è caccia al vincitore che secondo i titolari Carlo e Michele sarebbe proprio un bassanese fra coloro che si dedicano a quel tipo di puntate.